A poche ore dalla votazione del primo bilancio comunale dell'Era Angelini, le minoranze in Consiglio presentano una contromanovra, bocciando totalmente le scelte dell'amministrazione rea detta dell'opposizione di non avere una visione sulla città ed usare solo la leva fiscale per far quadrare i conti. Più che altro rivediamo il PD di sempre, quello che sa mettere solo le mani in tasca dei cittadini e lo fa senza neanche confrontarsi con una minoranza che ha una proposta diversa, anzi in questo caso siamo stati molto propositivi perché pensiamo che prima di mettere le mani in tasca a Riccione ci sono veramente tante altre strade, quindi dispiace tantissimo che anche nelle commissioni siano stati bocciati i nostri emendamenti perché crediamo che Riccione non si metti, soprattutto in questo momento, in questo contesto storico, vedersi aumentare le tasse e vedere una città ferma, perché quello che più dispiace anche è vedere un bilancio che non ha nessuna visione di città e nessuna progettabilità. Abbiamo presentato noi una manovra che ha un'anima e che rispetta soprattutto i riccionesi e i turisti senza andare a mettere le mani nelle loro tasche e quindi con la vendita di alcune società partecipate, oltre al recupero dell'evasione fiscale sul Limo, noi siamo in grado di andare a coprire tutti i tagli che questa amministrazione ha previsto, quindi una manovra che veramente ha rispetto per i riccionesi e che ci marca tutta la differenza e tutta la distanza con l'amministrazione di sinistra che si contraddistingue sempre e soltanto per l'aumento delle tasse. L'ipotesi è evitare gli aumenti di tari e tassa di soggiorno previsti che corrispondono ad entrate per circa 2 milioni, bilanciando con la vendita delle quote di farmacie comunali, PMR, AMI, Restart Romagna e con la lotta all'evasione per un totale di 3,8 milioni di euro, che permetterebbero di evitare alcuni tagli previsti e anche di avere un budget da destinare a Caritas e famiglie in difficoltà. Altro capitolo della contromanovra è il finanziamento di opere pubbliche che la città attende, da Piazza Unità a Via Lececcarini, dal Parco Ugo Lamalfa all'ex scuola elementare di Fontanelle, dove l'amministrazione vorrebbe aprire un centro per l'impiego bocciato dall'opposizione. Grande attenzione anche all'area turistica. Abbiamo avuto amarezza nel vedere che non sono stati presi in considerazione i tanti progetti che potevano essere portati avanti in una visione di città. Progetti che si possono realizzare attraverso l'alienazione di una colonia come la Bertazzoni, per la quale c'era già una proposta protocollata, e che sarebbe stato da volano per sviluppare l'area nord di Riccione, quindi portare a completamento invece la riqualificazione della Reggiana, dove c'era già un accordo con la Federazione Vela, e fare la famosa cittadella degli sport acquatici, e quindi essere il volano per quella zona. Più naturalmente il proseguimento di tutte le altre opere rimaste incomplete, quindi proprio per partito preso, per differenziarsi, non hanno neanche voluto prendere in considerazione quello che c'era, il completamento di Viale Verdi, il proseguimento di Via Corte Maggiore, i parcheggi, la realizzazione dei parcheggi senza i famosi PF, ma realizzandoli attraverso le nostre partecipate, il vedere anche realizzare il Parco Gola Amalfa, con attrezzature sportive, giochi per bambini, quindi invece vedere il concentrare la riqualificazione dell'edificio alle fontanelle, che ha bisogno di riqualificazione, dove realizzare un centro per l'impiego, in un momento in cui tutta la partita del mondo dei lavori, navighetto, reddito e cittadinanza, è bloccata quando lì si poteva pensare, come avevamo previsto noi, quella vicinanza al territorio tanto decantata, quindi con un presidio di polizia locale, con un presidio sanitario, quindi tutto buttato all'aria, proprio per differenziarsi, ma senza avere una visione di città. Un vero peccato. È un vero peccato vedere che questa amministrazione non ha pensato non solo al porto, ma tutto quello che è la zona mare, parlo della difesa della costa con i Vumesh, parlo del porto dove sono stati destinati solamente 150.000 euro l'anno per il dragaggio, che sono assolutamente insufficienti. Infatti noi abbiamo previsto distanziarne almeno 250.000. Inoltre, nella passata amministrazione, anzi nelle due amministrazioni tosi, si è fatto due volte il dragaggio straordinario. Speriamo che questa amministrazione lo tenga in considerazione, perché sarebbe un vero peccato e vanificare tutto il lavoro che è stato fatto fino ad oggi. Comunque, piange il cuore vedere che sono stati buttati via otto anni di lavoro importante e questa amministrazione non ha colto l'opportunità di poter continuare quello che è stato fatto fino ad adesso.